nanini auto ti aspetta per scoprire la gamma suzuki abbiamo progettato un sub di livello superiore suzuki s cross hybrid next level suv finisce così con una standing ovation e un coro quasi da stadio è un tributo a lino banfi l'attore di 86 anni arrivato a lucca per l'inaugurazione di una statua con le sue sembianze nella rappresentazione di oronzo canà nel figlio l'allenatore del pallone e la creatura di infinite statue marchio della galassia cosmic group a permettere questo pomeriggio a marcord fra aneddoti dell'attore pugliese e spezzoni di film da viene avanti cretino a fracchia la belva umana banfi ricorda sketch e le trovate dei suoi esordi compreso l'accenno a un jazz in salsa pugliese hanno inventato a borsa hanno sentito quelli che dicevano ok 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 da manzale pasqua e pasqua e pasqua e pasqua e pasqua e le cibre e poi gloria 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 non a me gloria gloria manzale non a me gloria 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 manzale non a me gloria 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 banfi saluta il pubblico e torna a roma dopo aver annunciato la realizzazione di un docufilm sulla sua vita in cui interpreterà suo padre e anche all'uscita verso l'auto di servizio è una folla di gente attributarli un saluto affettuoso abbiamo progettato un sub di livello superiore suzuki s cross hybrid next level s uv ti aspettiamo da nannini auto per conoscere la gamma completa di suzuki suzuki